se l'abbia chiamato articles count 1 salvo ci va in errore come vi dicevo e come ve l'ho detto sempre come un mantra preferisco avere un errore di compilazione che un errore a runtime se avevo any questo errore non l'avrei beccato non ci costa tanto fare l'interfaccia perché vi farò vedere due modi per creare l'interfaccia molto velocemente e vi faccio vedere il primo andiamo a vedere il network andiamo a vedere cosa ci ha risposto il back end andiamo a copiare tutto questo lo copiamo e andiamo a usare un servizio json2ts andiamo a invocarlo ecco questo servizio qui incollo tutto il json e come vedete qui mi crea l'interfaccia la copio tutta vado qui la incollo ovviamente root interface non ci può dire lo strumento come si chiama ma noi l'abbiamo chiamato article dto questo lo posso cancellare e a questo punto avete visto? in neanche 10 secondi io ho creato l'interfaccia nel momento stesso in cui il back endista per qualche motivo dovesse cambiare l'API oppure fa un versioning dell'API per qualche motivo perché ha aggiunto funzionalità perché per qualunque motivo noi andremo nient'altro che a sostituire la nostra interfaccia e avremo eventualmente degli errori a compile time perché magari qualche property o scomparsa o è stata rinominata o per altri motivi questa è l'importanza di creare l'interfaccia e di cassare i get, i post e via dicendo sulle chiamate http questo è il primo metodo che vi faccio vedere per creare l'interfaccia e poi ve ne faccio vedere un altro forse ancora più carino quindi lo swagger eh vabbè ve lo faccio vedere dopo ve lo faccio vedere dopo andiamo avanti quindi abbiamo l'interfaccia a questo punto in articoli abbiamo l'interfaccia e quindi questo contratto che stabilisce che cosa c'è in questa chiamata in questi articoli qui potrei anche proprio forzarlo di che questo è un article DTO perché prevedo che sarà un article DTO e adesso andiamo nella nostra home page e andiamo questo ovviamente lo cancelliamo e andiamo a riempire la nostra pagina come vedete la nostra pagina è praticamente cablata su dei dati di esempio serviva per farlo vedere al nostro ipotetico cliente quindi che dobbiamo fare dobbiamo andare a sostituire i dati con quello che ci è arrivato lasciamo per il momento perdere global feed e your feed e qui andiamo ad esempio come vedete qui ci sono diversi post che si chiamano post preview quindi la prima cosa che io andrei a fare siccome abbiamo tanti post preview è andarmi a creare un nuovo componente che chiameremo post preview quindi questa volta lo andiamo a far generare da creiamo una nuova console quindi andiamo dentro src app qui abbiamo le pages siccome questo componente non penso di riutilizzarlo da altre parti nel nostro codice sarà un componente solo della pagina home page quindi nella home page andrò a creare un folder che chiameremo components andiamo dentro components e qui andremo a generare il componente post aspetta che lo faccio vedere così ng post preview e magari ci mettiamo un skip test ah non ho messo per fortuna che ho sbagliato il parametro non avevo messo il view skip test skip test andiamo a generarlo ci crea il componente quindi sapremo che questo componente è qui eccolo qua cosa mettiamo quindi qui facciamo un bel taglia lo mettiamo al nostro del post preview del questo post preview component lo salviamo e qui adesso se salviamo ovviamente non fa più vedere niente qui avevamo due post preview quindi uno lo eliminiamo ce ne basta uno solo quindi eliminiamo il secondo andiamo nel nostro html oh cavolo non mi ricordo più eccolo qua l'avevamo messo qui qui cosa facciamo facciamo un bel for così sono gli items vedete abbiamo l'intellisense ci dice articoli che è la property poi dobbiamo usare articoli count no useremo articles track con l'index oppure potremmo fare vediamo se per caso questo qui lo chiamiamo articolo qui vediamo se invece dell'indice possiamo usare magari c'ha articolo un id non ce l'ha non ce l'ha niente non ce l'ha dato quindi facciamo il track by index e qui cosa andiamo a fare per ogni elemento andiamo a mettere come l'abbiamo chiamato andiamo a vedere app post preview quindi ritorniamo qui e qui andiamo a metterci magari come tag html ovviamente ci dice guarda che lo devi importare lo importiamo salviamo il tutto e qui adesso vedremo lo stesso articolo perché non l'abbiamo ancora bindato però replicato n volte se andiamo a vedere il nostro network ci diceva la prima property che avevamo visto che erano 8 articoli quindi se qui andessimo a contarli sarebbero 8 ovviamente ovviamente avere un solo qui bisogna bindarlo quindi che facciamo nel nostro post preview andiamo a creare una variabile input di che tipo andiamo a vedere nel nostro article dto andremo a prendere article quindi nel nostro post preview faremo article è uguale input quindi andremo a usare signal è un required perché sennò questo componente non ha senso di tipo article e lo andiamo a importare se adesso salviamo ci va in errore perché perché ci dice che questo input article ci dice ovviamente che questo input è di tipo required quindi nel nostro home page html se vi ricordate la lezione del data binding article articolo articolo che è questo salviamo ovviamente adesso abbiamo fatto il binding con l'articolo facendo questo for e possiamo finalmente andare a cambiare ad esempio l'autore ce l'abbiamo quindi tra parentesi graffe article punto qui adesso l'intellisense lascia un po' desiderare no a dirvelo è così perché siamo in sign eccolo qua qui abbiamo l'autore quindi author punto e magari ci mettiamo username andiamo a salvare e come vedete l'autore è bab76 o Alberto quindi inizia a prendere forma andiamo a cambiare qui la data vedete gennaio 20 quindi sempre in data binding article punto createDat se andiamo a salvare se vi ricordate una data è vero createDat è stata mappata come stringa e infatti ci fa vedere la stringa della data ma se qui metto date ovviamente devo importare il common module nel preview con il component io vi ho sempre fatto vedere l'import del common module in realtà il common module sono tante cose supponendo di avere soltanto il pipe del date qui potrei anche importare soltanto il date pipe come vedete come vedete adesso la data è formattata è formattata in inglese stasera non vi faccio vedere come formattarla in italiano fidatevi che questa è in inglese in questo caso il formato se non ricordo male era il mese il giorno e l'anno andiamo a vedere eh sì magari se faccio la formattazione corretta vedete la data è il mese in inglese non vi faccio vedere adesso come come convertirlo in italiano non è adesso se no ci dovremmo dilungare troppo lo faremo lo faremo ragazzi se vi interessa lo possiamo fare assieme qui sarebbe i cuoricini quindi i favorite count zero nessuno piace questo post questo sarebbe il titolo quindi article punto e questo è il titolo quindi title questo qui sarebbe vedete che è cambiato questo sarebbe diciamo la descrizione breve quindi mettiamo data binding article punto description il body invece la descrizione è lunga salviamo ecco qua e quindi la pagina vedete adesso per ogni elemento che ci è arrivato dall'http dalla get dell'http viene stampato prima prima mi chiedevate ma se io cambiano e metto articles in boolean che succede guardate in realtà non succede granché ha funzionato non è cambiato ma se questo article count che è un booleano che è stato marcato come un booleano ok mi vado ad esempio qui e vi dico vediamo se riusciamo a farlo andare in errore facciamo un binding di articoli punto article count se lo vado a stampare vedete non è cambiato io lo sto trattando questo l'ho trattato come un booleano ma se però qui ci metto pipe money vediamo se va in errore e no more recurrency ecco qua vedete qui in questo caso vabbè qui è in realtà è perché articoli overload eccolo qua l'argomento di tipo boolean non è assegnabile a un parametro di tipo string a number capito quindi l'interfaccia quando andiamo a definire l'interfaccia serve per avere degli errori a compile time e per non incorrere ad esempio se questo article count dovevo passarlo nel post preview ad esempio nel componente e mi aspettavo un numerico un booleano non sarebbe andato bene quindi questa è l'importanza e la forza di creare l'interfaccia se poi sbaglio il tipo dell'interfaccia come avete visto non cambia niente ma nel caso in cui magari dovevo passare questo article count a un componente che aspettava numeri in questo caso mi avrebbe dato un errore questo è per fare diciamo io lo faccio sempre perché ve lo ripetirò fino alla fine riferisco un errore a compile time piuttosto che un errore a run time a run time a run time Grazie a tutti